E rimanendo in tema di spirito versatile e intelligenza agile, è arrivato il momento di scendere veramente in profondità. Le montagne abruzzesi, infatti, sono anche il ventre della ricerca. Benvenuti ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Capire le proprietà del neutrino è perché è una particella molto comune. Possiamo pensare a una domanda di questo tipo fatta a un antico greco che conosceva l'elettricità, ma l'elettricità come quella cosa che si produce strofinando la bacchetta d'ambra sulla pelliccia del gatto. E uno gli chiede, ma perché vuoi studiare questa elettricità? E allora non avrebbero avuto risposta, allora non avevano risposta, ora noi sappiamo che la risposta c'è.